Amici di Radio.Zero, benvenuti a Chuck si ride! Peccato che è solo lui che ride, ma non importa. Noi siamo Susanna Fontana e Enrico Tamburini e oggi affrontiamo un film che uscirà nelle sale il 19 settembre e ve lo dico in lingua originale perché sono un poliglotta. Once you put a time in Hollywood. C'era una volta a Hollywood. Ecco, questa è la lingua originale. È la mia. Se hai capito qualcosa. Il regista è Quentin Tarantino, un film molto atteso è stato presentato anche all'ultima mostra del cinema di Venezia e i protagonisti sono Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. E poi c'è anche la bellissima Margot Robbie che interpreta Sharon Tate. Sharon Tate, il nome forse vi ricorda qualcosa perché Sharon Tate è stata una delle vittime della terrificante strage compiuta dalla famiglia famiglia, tra virgolette, della Setta Manson a casa di Roman Polanski il 9 agosto del 1969 un fatto di cronaca di cui, che dire, se ne parla ancora. E adesso noi vi parliamo di questa strage attraverso una curiosità cinematografica. Diciamo che Quentin Tarantino è un grandissimo fan di Sergio Leone un grandissimo regista. Esatto, anzi in molti suoi film di Quentin Tarantino troviamo anche degli omaggi, dei rimandi alle opere di Sergio Leone ma diciamo che proprio Sergio Leone l'ha scampata bella perché era invitato anche lui a quello stesso festino organizzato da Sharon Tate doveva andarci con un suo amico il suo braccio destro, il suo sceneggiatore che però all'ultimo non poteva venire non poteva andare per via di un impegno e quindi anche lui, anche Sergio Leone declinò l'invito. Ma perché lo declinò? Ti ho interrotto, perché lo declinò? Lo declinò perché non sapeva parlare l'inglese e si sarebbe trovato in una festa con chi parlava in questa festa? Allora disse proprio io non vado perché non so con chi parlà rimase sul divano si fece la sua serata il giorno dopo quando sentì, sape della notizia se la fece proprio sotto perché l'aveva scampata bella parliamo adesso anche dei protagonisti di C'era una volta a Hollywood e cominciamo da Leonardo Di Caprio e mi voglio soffermare su una questione importante sul cognome Di Caprio perché pare che si discute molto sul web soprattutto sul mio web perché l'ho scritto sbagliato ho scritto Di Caprio staccato in realtà si scrive Di Caprio attaccato mi sono preso i peggi improperi esatto e ti hanno insultato e quindi cari amici di Radio.0 però vi consiglio vivamente di scrivere Di Caprio attaccato ok? questo per quanto riguarda il cognome il nome invece da che cosa deriva? allora la madre decise di chiamarlo così perché quando lo sentì scalciare nel pancione per la prima volta si trovava in un museo e stava guardando un quadro proprio di Leonardo da Vinci e immaginatevi questa cosa se sua madre si fosse ritrovata di fronte a un quadro dell'Arcimboldo cioè si sarebbe chiamato Arcimboldo Di Caprio cioè ma immaginatevi che cosa ma non è possibile soprattutto tu non saresti riuscito a scriverlo a Arcimboldo Di Caprio altro che staccato intaccato infatti per fortuna dico ringrazio la mamma che si è trovata di fronte a un Da Vinci ecco un personaggio famoso della storia se non lo conoscete approfondite a cui dedicheremo un'altra puntata parliamo adesso delle origini degli esordi degli esordi di Di Caprio beh lui esordì giovanissimo all'inizio in una serie tv aveva solo 5 anni si chiamava la serie Romper Room ma la sua partecipazione non durò molto perché fu subito buttato fuori dal cast sì perché ci fu una scena di divertimenti di balli di insomma caos totale e Di Caprio andò di fronte alla telecamera e cominciò a muoverla con le mani a shakerarla come fosse un cocktail e questa cosa non piacque per nulla al regista e alla produzione e lo mandarono a casa sì ma poverino aveva 5 anni comunque che severità ma insomma fai quello che ti dico io tanto non sarai nessuno ecco fatto sta che poi invece in un film quindi per il grande schermo esordì nel 1991 in Critters 3 e da lì poi la sua carriera ebbe una fortissima scesa e da lì infatti si può dire che il suo nome cominciò a girare ma questo nome non piaceva al suo agente secondo lui questo nome non era americano ma come si fa ovvio che non è americano Leonardo Di Caprio è tutto tranne che americano come nome lo voleva americanizzare e voleva chiamarlo al posto di Leonardo Di Caprio Lenny Williams ma dico io no beh a te sarebbe stato bene Lenny Williams ma Di Caprio no no assolutamente no anzi anzi sapete cosa fece praticamente depositò il suo nome e il suo cognome alla CIA americana come si dice CIA americana CIA alla CIA americana e da quel momento in poi nessuno può usare senza autorizzazione il nome Di Caprio forse forse uno però un'eccezione c'è infatti c'è uno scarafaggio acquatico che è stato chiamato proprio Di Caprio perché gli esploratori gli scienziati che lo trovarono nel Borneo stavano facendo una scampagnata così fuori porta col fagottino il picnic il vino la boccetta tutto insomma trovarono questo scarafaggio una specie che ancora non era stata scoperta e decisero di chiamarlo Di Caprio in onore proprio dell'attore e del suo impegno a favore della natura e dell'ambiente è uno che si sa muovere nell'ambiente insomma ma dai ci ritroviamo fra poco rieccoci di nuovo insieme qui a Chuck si ride e parliamo dell'altro protagonista di C'era una volta a Hollywood Brad Pitt ecco Brad Pitt facciamo un approfondimento su di lui che dire è un bel uomo ecco questa è una grande curiosità da veri intenditori ma uno magari non se ne accorge bisogna dirlo e arrivi tu all'unanimità è un bel uomo ecco e dobbiamo dire che quando fece uno spot per una famosa casa automobilistica della quale io non posso fare il nome perché sennò sarebbe pubblicità occulta se lo dici non è occulta non lo dico lo stesso ecco questo spot girò per tutto il mondo e arrivò fino in Malesia dove però venne bannato perché il governo l'autorità decisero che se gli uomini malesi vedevano troppo spesso Brad Pitt in questo spot insomma si sarebbero sentiti inferiori ci sarebbero rimasti male ma poi chissà perché tu mica ti senti inferiore a Brad Pitt per esempio ma io ma insomma perché insomma quelli dai l'avevano presa Malese ma dai vabbè dai a parte questo perché insomma bisogna anche essere un po' tristi in questo momento perché vi racconto che Pitt sarà perfetto ma non del tutto perché soffre di una malattia e ce la dice Susanna questa malattia allora è molto difficile da pronunciare prosopagnosia che sarebbe l'incapacità di ricordare i volti cioè lui non riesce ad associare i nomi al volto delle persone a meno che naturalmente non li non veda queste persone continuamente tutto il giorno beh ma è vero perché io una volta sul set di Bastardi senza gloria l'ho incrociato e come ci sei entrato cioè ci sono intrusolato un abusivo un abusivo insomma l'ho incrociato e gli ho detto hi Brad how are you come stai e lui mi ha guardato un po' strano come se non mi conoscessi come stai chi ci sono cioè io sono tamburini di Mediaset come fa non riconoscerti invece era colpa della sua malattia era solo per quello altrimenti cioè io ci sono rimasto male poi sono tornato a casa ho fatto delle ricerche ho visto che aveva soffre di questa cosa e diceva insomma se uno è malato ti ha rincuorato questo insomma mi ha rincuorato sì sì e parliamo adesso degli esordi esatto perché uno dei primi film uno dei più famosi che ha fatto Brad Pitt è Thelma e Louise con Gina Davis e Suzanne Sarand dove lui interpretava proprio la parte di un belloccio che incontrava le due protagoniste con la quale con una delle quali aveva anche un flirt Gina Davis Gina Davis ecco e dovete sapere che c'era una scena di sesso tra Brad Pitt e Gina Davis però inizialmente inizialmente la produzione aveva previsto una controfigura per Gina Davis allora letta questa cosa Gina Davis ci rimase un po' male no 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 dal regista da Ridley Scott dice se ti Ridley io non voglio far spendere soldi ulteriori alla produzione risparmiamo sulla controfigura risparmiamo ecco mi sacrifico io per fare la scena di sesso con Brad Pitt nudo e si sacrifico tant'è che poi ebbero anche un flirt ecco una storia per davvero i due attori ma c'è un trucchetto che Brad usò per sembrare un po' più bello insomma usarono questo trucchetto sugli addominali per valorizzarli gli versarono litri e litri di acqua Evian o Evian non so come si dice ma anche questa pubblicità non occulta di acqua di una famosa acqua oligo minerale e praticamente gli versarono addosso questa acqua che bella bagnata valorizzava la sua tanta ruga io però ho il sospetto che se verso l'acqua sui tuoi addominali l'effetto non sia lo stesso ma bisogna provare forse con l'aranciata meno male che in radio non si vede sempre a proposito di Thelma e Louise ho deciso di importare in Italia il grande successo americano ok e di riadattarlo al nostro cinema che purtroppo è in crisi non ce la fa più arranca e allora c'è bisogno di nuove idee nuove idee cioè di sfruttare le idee degli altri ecco e quindi Thelma e Louise americano diventa Thelma e Luisa italiano che nome è Thelma scusa Thelma è femminile il mago Thelma c'è è un maschio il mago Thelma è un maschio secondo me lo può fare io nei suoi confronti nutro una stima reciproca che mi proprio la stima sarà sicuramente in una direzione ma dubito sia reciproca si ma tu ti riei queste frecciate non hai ancora ascoltato la trama ecco la trama parla di queste due donne che lasciano i loro mariti e proprio non sopportano a casa fino a qua mi immedesimo scappano scappano per un weekend di trasgressioni nelle Alpi Giulie a bordo della loro decapotabile sportiva un'auto bellissima una Fiat Multiplan sei sicuro sia sportiva e decapotabile è lo sponsor capisci bisogna mentire devo parlarne bene è lo sponsor che finanzia il film finanzia il film se no non si riesce a fare se non ci sono i soldi purtroppo il cinema va così partono per questo weekend di trasgressione ricco di droga sesso rock and roll accade veramente di tutto ma la parte più d'azione è quando le due scoprono di aver perduto i bagagli purtro e quindi non erano assicurati come ti comporti un dramma un thriller da pelle d'occa la scena madre è il finale che però io per scelta stilistica ho deciso di mettere a inizio un film ah ecco così metti che uno si addormenta nel corso del film è sicuro di non aver perso il finale è una scelta azzardata che però può ripagare nel corso del tempo se qualche produttore all'ascolto appunto ascolta e vuole finanziare io sono qua disposto non rubatela non potete rubarla perché ripeto è depositata in Siae allora siccome deduco che dovremmo aspettare un po' per questo produttore che verrà a finanziare il tuo film direi di dare appuntamento intanto al prossimo sabato agli amici di radio.zero va bene amici di radio.zero aspettiamo anche le vostre richieste potete scrivere e contattarci sui nostri social radio.zero il whatsapp di radio.zero ma anche filmoni e cine e panettoni fatecelo sapere che a noi arriva tutto esatto nel frattempo vi auguriamo buon weekend da Susanna Fontana e Enrico Tamburini ciao ciao